Risistemare le posizioni delle bancarelle nelle piazze Cavalli e Duomo e impedire il passaggio degli autobus nelle aree del mercato tutti i mercoledì e sabato mattina. Sono le due principali richieste presentate dal portavoce degli ambulanti di Piacenza, Angelo Grassi, la commissione comunale che si riunisce per valutare le migliorie al mercato cittadino. Presenti anche i rappresentanti di ConfCommerce e ConfEsercenti. Ogni volta che si parla del mercato, lo stavo affermando prima, mi fa piacere perché vuol dire che qualcuno comincia a capire che il mercato va sistemato, bene o male. Adesso bisogna vedere le forze politiche se, ecco per dire, noi abbiamo difficoltà, abbiamo difficoltà perché così com'è non è il massimo, non è sistemato poca sicurezza ma non bene. Se riusissimo a togliere, perché l'avevo già chiesto, qualcuno l'ha detto ma l'ho chiesto con l'assessore, togliere almeno queste due mezze giornate gli autobus su quel tratto e sistemare i banchi diventerebbe un bellissimo mercato.